Buon Natale. Come va la gamba? Bene, grazie per l'interesse. Entra. Ah, bene, Penny, sei qui per lo scambio dei regali. Ti farà piacere sapere che sono pronto a qualunque cosa tu abbia da offrire. Ok, tieni. Dovrei comunicarvi che sto avendo problemi di digestione. Quindi se dovessi congedarmi in modo brusco, non allarmateli. Ah, un tovagliolo. Gira lo Sheldon. A Sheldon, lunga vita e prosperità. Leonard Nimoy. È venuto al ristorante. Scusa se è sporco. Saici si è pulito la bocca. Io possiedo il DNA di Leonard Nimoy. Beh... Sì, penso di sì. Ma guarda, c'è l'autografo. Ti rendi conto di che cosa significa? Mi serve solo un ovulo sano e posso ricreare il mio Leonard Nimoy personale. Ok, tutto ciò che avrei da me è il tovagliolo, Sheldon. Torno subito. Sì, è venuto. Sì, è venuto. All dinner. Sì, è venuto.